Don Giacomo Pavanello, questa sera un incontro per parlare di fede e conversione. Vuole parlarci quando lei ha incontrato la sua fede? Io sono nato in una famiglia cattolica abbastanza credente, soprattutto praticante, perché comunque ogni domenica si andava alla messa, le pregherine prima di andare a letto, quando eravamo bambini io e i miei fratelli, quindi comunque sono cresciuto dentro un contesto di fede ordinaria, direi, normalissima. Incontrare la fede non automaticamente significa incontrare Dio. E questa è stata un po' anche la scoperta grande della mia vita, cioè in seguito a un po' la ribellione adolescenziale, la fatica di crescere, di diventare grandi, perché anche la fede a un certo punto deve diventare una cosa da grandi, non può restare una cosa da bambini. Ecco, è stato lì che ho fatto davanti anche a tanti miei fallimenti, a tanti errori che penso che ogni adolescente fa nella propria vita. Ecco, incontrare un Dio che ti perdona, un Dio che non vuole nient'altro che il tuo bene, che non ti giudica, che cerca di darti una prospettiva di vita, questo per me ha significato incontrare il Dio di Gesù Cristo, il Dio del Vangelo e iniziare quindi anche tutto un cammino che poi con calma mi ha portato a sacerdozio e a fare questa scelta di vita. Lei è responsabile dell'associazione Nuovi Orizzonti, di che cosa si occupa questa associazione? Nuovi Orizzonti è una realtà fondata da Chiara Mirante, è una comunità, una grande famiglia che ha la sede principale a Frosinone. Io sono responsabile su Roma e più sono responsabile di altre aree specifiche della comunità. Noi ci occupiamo in estrema, estrema sintesi di evangelizzazione e accoglienza. Evangelizzazione che significa andare per le strade come hanno fatto Gesù come hanno fatto i discepoli per incontrare i giovani o i meno giovani anche laddove essi vivono o soprattutto comunque incontrare le persone che vivono gravi forme di disagio. E l'accoglienza, quindi accogliere nei nostri centri ragazzi e ragazze che vengono dalla strada, dalla tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione o comunque persone che vengono anche da gravi drammi interiori. Come anche accogliere per un periodo specifico dei ragazzi che definiremmo ragazzi normali magari perché non hanno problemi ma che in realtà magari devono ancora sistemare alcune cose della vita e scelgono di prepararsi e fare un periodo proprio di training, di allenamento per a loro volta diventare nel loro territorio quando torneranno a casa, fautori di progetti, possono aprire nuovi centri e quant'altro. Quindi ragazzi che si formano un po' al volontariato. C'è una storia di rinascita di questi ragazzi che le piace ricordare e che ci vuole ricordare? Io di storie ne ho decine e decine e anche recentemente è una storia che mi ha particolarmente segnato perché quando io ho fatto la scelta di entrare in comunità che ancora non ero prete volevo concretizzare lì il tutto. È stato bello perché all'inizio della comunità noi, a me piace dire non tossicodipendenti, diversamente tossici, eravamo assieme a vivere con i tossici, nel senso con coloro che stavano uscendo dalle sostanze. Io l'ho stretto amicizzo con un ragazzo che è praticamente mio coetaneo che veniva da un'esperienza di carcere di tossicodipendenza, eroinomane, di spaccio, che proprio in carcere grazie a uno zingaro addirittura, grazie a un altro carcerato zingaro, aveva conosciuto la Bibbia, aveva conosciuto il Vangelo, aveva iniziato a pregare. E questo ragazzo quando è entrato, insomma, era uno che veniva dalla strada, dal carcere, quindi non uno che usciva da Oxford, da che ne so quale contesto di alta società. E vedere i suoi passi, vedere che un pochino alla volta lui dal carcere oggi è sposato, ha una figlia, è operatore terapeutico, quindi aiuta nuovi ragazzi a uscire. Questi per me sono i miracoli. A chi dice che i miracoli è una roba nelle favolette del Vangelo, mi spiace, i miracoli continuano a accadere quando tu scegli di accogliere nel tuo cuore quella che è la potenza di Dio. Che cosa significa per lei essere missionario della misericordia? È un mandato ricevuto da Papa Francesco, il mercoledì delle Ceneri. Intanto è un dono, ma anche una grande responsabilità essere tra i 1100 sacerdoti nominati dal Papa, essere testimoni, lo dico con le parole sue. Quindi essere presenza nel territorio della sollecitudine materna della Chiesa. Cioè una Chiesa che vuole essere madre, che vuole essere tenerezza. Quindi la mia presenza è anche quella di testimoniare che la Chiesa è chiamata ad essere clero e laici, presenza di misericordia. Cioè testimonianza di un Dio che non è lì col dito puntato per giudicare, ma è un Dio che accoglie, un Dio che perdona, che rigenera sempre. Qual è il suo messaggio per i ragazzi che ci ascoltano? Che crediate fino in fondo in voi stessi. Noi tante volte noi praticiamo, devi avere fede in Dio, devi avere fede in Dio, che ci sta per carità, se no mi licenziano. Ma la cosa bella è che Dio continua a dire io ho fiducia in te, io Dio ho fede in te, perché ti ho creato io e so quanto vali, so quanto puoi fare. Purtroppo nel mondo sembra che ci sia la gara a distruggere. I giovani sono un problema, i giovani sono il nostro futuro e quindi dobbiamo, ma stiamo a scherzare, i giovani sono il presente, non sono il futuro. E quindi guardare a noi stessi, non ascoltando questi profeti di menzogna che puntano a togliere la speranza, ma invece guardare a noi stessi come l'ambito della potenzialità più grande di sviluppo di se stessi. Continua la Missione Popolare Cittadina che sta affrontando vari aspetti della fede e della Chiesa. Sì, è veramente una bella iniziativa quella della Missione Popolare qui a Partinico, un'iniziativa suggerita da Papa Francesco per l'anno straordinario della misericordia. C'è stata una partecipazione eccezionale da parte soprattutto dei giovani e quindi sono molto contento, stasera sono voluto venire per esprimere la mia approvazione, la mia contentezza per questa Missione Cittadina che speriamo possa portare un rinnovamento personale e comunitario di questa città all'insegna della conversione, della riconciliazione e della misericordia. Questa sera la testimonianza di Don Giacomo Pavanello. Sì, Don Giacomo appartiene alla comunità Nuovi Orizzonti, noi li conosciamo bene, quest'anno ho partecipato con loro io assieme ai seminaristi a Riccione all'evangelizzazione nelle spiagge. Mi pare importante che il Vangelo venga annunziato non solo all'interno delle chiese, ma venga annunziato in uscita in tutte le periferie esistenziali e anche geografiche di una città. Qual è il messaggio di questa Missione Popolare? Il messaggio di questa Missione Popolare è quello di aprire il nostro cuore alla misericordia di Dio ricco di misericordia perché questa misericordia possa provocare la conversione, cioè il cambiamento del nostro cuore e la riconciliazione con tutti per costruire una città che sia una città a misura d'uomo perché secondo il disegno di Dio.